salve a tutti sono micweb e sono qui di nuovo con un tutorial di wordpress 4.3.1 oggi sarà un piccolo tutorial veramente molto banale riguardo di nuovo le pagine di wordpress una piccola cosa che mi ero dimenticato di spiegarvi è la possibilità di aggiungere delle pagine nascoste o come meglio dire delle pagine private ve lo mostro velocemente aggiungo una nuova pagina scrivo privato aggiungo una foto prendo una foto a caso prendo prenda questa foto qui questa è una pagina privata quando andiamo qui a destra per pubblicare la pagina visibilità pubblico così la pagina viene pubblicata e tutti la possono guardare se vogliamo modificare la visibilità andiamo qui modifica privato praticamente solo coloro che hanno l'indirizzo possono scusate privato solo quando si è loggati si ha la possibilità di vedere la pagina cioè nel senso io che sono admin amministratore ho la possibilità di vedere la pagina privata interessante è anche protetto da password aggiungiamo una password nel nostro caso metto tutorial faccio ok faccio ok pubblico la pagina faccio un'anteprima delle modifiche andiamo sulla pagina come vedete la nostra pagina non si vede protetto privato andiamo a inserire la nostra password che avevamo configurato ecco qui la nostra pagina adesso è visibile può sembrare una cosa banale ma può tornare molto utile ad esempio se si ha una chat o un plugin di videoconferenza si può nasconderlo ai normali utenti o ai normali visitatori attraverso questo questo metodo non l'avevo spiegato l'altra volta quindi mi sembrava giusto aggiungere questo piccolo dettaglio nel senso con wordpress si possono creare delle pagine protette da password quindi se avete dei documenti un po' particolari che non devono essere letti o dei video che volete nascondere e solo alcuni utenti devono vedere questi contenuti la soluzione migliore è questa che vi ho mostrato appena adesso appunto sulle pagine e poi proteggerle dalle password tutto qui ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao